Siamo in difesa, bannerei... Ma fate quello che volete Ma bannate una mappa che volete, non mi interessa Caffè Dostoievski, vediamo con il contro chi siamo Siamo 2Q contro Solo Q, ok Livello 67 1,81 di KD 7 vittorie, 0 sconfitte Come on the game? Benissimo Allora Aridaglie Prima perchè la live di Bianca era solo sticker? Cioè? Quale? Quella che ha fatto l'altro ieri Vediamo No reinforcements? No Vediamo Venga l'altra giù Ottimo Un ottimo inizio per i ragazzi dei difensori dal Vienna Un ottimo inizio per i ragazzi Ok Vamo, vamo Ho un piano, vamo Iana Sì esatto Non lo sapevo fosse solo sticker Glielo, glielo dico appena la sento Stasera glielo dico Ok, quindi mi verranno qua Stasera glielo dico Sleggio default Cos'è default? Eh ragazzi difendo qua E tu hatchi default Ultimo nemico rimatto Default Nice Buono Cos'è default? Il plant è default? Allora Buono Let's go 1-0 Kitchen Eeeh Prendiamo Melusi Allora Allora ragazzi sono di uno stanco Ah basta Aiuto Ho una partita tranquilla Basta Oh mio Dio Ok Mio Parapiraro Ok Sto tutti fuori ragazzi Stiamo dentro noi La squadra d'attacco ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Stivo Stati alla larga Attivazione Spiazzo Un'allarme di prossimità Vediamo Vediamo Aia Lanciano Cosa Sì Ok Ok Fatterebbe neanche avvertirvi Eeeh Matteo Non lo sapevo Z Matteo non lo sapevo Comunque grazie che me l'hai detto Ah il mio atto ce l'abbiamo Hanno preso le carte Ottimo E difendiamo sempre qua Bakery Prep C'è Twitch Mi sa che c'è Twitch Mi sa che sto sopra Non so loro Sopra Buon imprezzo Low sledge in Bakery Buono Buono shot Come non è morto sledge Comunque Vedete ragazzi che Me l'usi A volte veramente Non fa danno C'è l'ho distrutto L'avete visto Va bene scorpion GG C'è l'ho devastato sledge Come fa ad essere ancora vivo Eh what the fuck Bro How is that possible Ok dai 3-0 Ce la facciamo Ce la facciamo Dai Continuiamo Al nostro destino Possiamo benissimo Metterlo qua Si copre un po' Tutta la stanza Rompò qua le cose Ragazzi così Così prende direttamente Il me l'usi Perché se no Non lo prende Questo Lo mettiamo Qua Perfetto Ottimo Eh questo Lo mettiamo Qua Mettiamolo qua Perfetto E questo qua Nice Ok C'è nessuna Che possiamo Spottare Bella questa Raga Ok Da white Qua lui Ah da qua Ok Va bene Sì Un F40 Raiding Sì Rai P** Un'appresenata L'a Gapkin Oltim hanno controllo sull'interno? stanno messi di merda una heal, una white c'è un pillo devo capire se è sotto sì, sull'interno, giallo eeeh, white guarda, white guarda, white ho il pillo ancora sopra hanno aperto il treno siamo qui in vicino allora pusha ok in dinning in dinning in dinning ultimo dinning buono buono shot non stiamo morendo mai dai stiamo proprio straight line buono 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 allora andiamo qua prendiamo sledge eeeh le granate poi ragazzi bisogna essere rigidi, rigidi proprio ancora focus let's go let's go let's go let's go let's go no, non mi parla no, non mi puoi parlare no, non mi puoi parlare no, non mi puoi parlare su raid in quello run out eeeh bravo, c'è nice ok buono ah per lo streaming no, raga non mi cambia niente dipende dove vado meglio cioè tanto streamo ugualmente su stream e su youtube cioè su twitch e su youtube quindi dipende come dove va meglio dove ho più entrate più pubblico cioè ok ok c'è uno tipo qua siano le gambe buono devo capire se hai in new hatch o c'è qualcuno c'è nessuno in new hatch grazie Grazie Poi riempire E ovviamente io non lo ammazzo Lui mi ammazza E' giusto ragazzi Io non lo ammazzo ma lui mi ammazza Guardate Ovviamente Ovviamente va bene Porco due porco Che palle Vediamo se ce la fanno Che sfiga Eh uno vediamo Restra Fuck Pack out Dai ragazzi Che cavolo Ne è possibile Nice Soprano vinte Andranno sotto Io sotto prenderei Feuds Prendiamo Feuds Speriamo Preghiamo il signore Let's try Again One more time Segnerebbe scendere da Da qua Entrare da qua Si potrebbe entrare da qua ragazzi Let's try Vai Anche apri un attimo Se c'è qualcuno Oh raga Teoria C'è nessuno In pratica ci muoio Ma sono solo Mi devo trastare in Gesù Sì un secco Mi devo trastare in Gesù Per giocare così Raga vabbè prego Non c'è nessuno Non c'è nessuno Sì scusate Non c'è nessuno Dronio C'è Diziamo Ok Vediamo se mi fa un bricciolo Vabbè raga ma Ma come cacchio si fa a giocare così Eh vabbè I sound Lui ha 47 di armor Non si sente camminare E han detto che han fatto la cosa Che si ha abbassato E uno si sente di più Ora stress Che stress Che stress di merda Prendiamo Lion Sì scusate Sì scusate Ragazzi Ragazzi Speriamo 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 Cioè possiamo riprendere Fuse Possiamo riprendere Fuse Perché ora vanno in reading Reading è molto facile Da fuzzare Se prendiamo il sopra Allora se prendiamo il sopra Raga è molto facile Ok Ok Controllo il dietro Spazio in RA Buon imbarco Speriamo di finire in defense Ragazzi Perché In attacco Non ci siamo In attacco Non ci siamo Chat Ci serve Di finire in defense In defense Ne abbiamo vinte 3 In attacco Ne abbiamo perso 3 Io non commento Quello che è appena accaduto Amore Amore In pillar Viene Quattro Oh fuck Va bene Va bene Va bene Va bene Ragazzi Provo knock Perché no Se non facciamo la giocata strana Dove facciamo Si va bene No no che non va bene Abbiamo perso Cioè abbiamo perso 3 difese Cioè 3 attacchi Loro ci mettono in attacco Noi abbiamo perso Cioè se non facciamo La giocata pazza Noi abbiamo perso Perché Perderemo l'attacco Vinceremo la difesa E perderemo l'attacco Quindi Se non si fa La giocata pazza Sgravata Così Non Non ce la facciamo No Si sta sotto Serve fuzz di nuovo Vai ragazzi Ma no Faccio giocare con fuzz Da solo Cristo Cioè Fuzz col team Sarebbe De Cristo Loro mi coprono Io fuzzo Cioè qua veramente Dove implorare Gli dei uni È possibile Oh no Can you shoot the mute jammer That's on the cimitero Yeah One in prep One in prep One in prep Okay Ok Il problema è il dietro Uno in frizz, uno in frizz Ok 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 Aller No Padre Aller I Eto Eto Diffusing Fake Vabbiamo, vabbiamo No tempo, no tempo No Non lo so Matt, io non lo guardo Allora c'è la... Expecto Allora dai Abbiamo vinto l'attacco Cosa stranissima, ma tanto ora perdiamo la difesa No, di frac Ehm Ehm Andiamo Aiaiaiai Allora mettiamo sempre i melusi buoni Un melusi qui Un melusi qua L'altro melusi qua Perfetto Perfetto Ok, stiamo qua Oh no Ehm Ehm Metto sempre quelli Era bandit No ma non ho un main ragazzi, io gioco tutti Quello che manca io metto Quello che capisco che serve uso Eh Tanto c'è il melusi Perfetto 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 Uno in bakery Oh no, madonna Tanti cacchio nei mezzi Perfetto 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 Che Che palle troll Eccolo la Let's go Perfetto Perfetto Eh ragazzi Perfetto 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 Bello Ok Hahahaha had What the f**k? Che dire? Che dire? Ok Madonna Che dire? Chapp is on Yo, Capcam traps on Cigar Yeah, two One in Cigar, one in Cigar One is picked though, yeah? Yeah, yeah One in cocktail, yeah Still Capcam is on the... Yeah Oh my God How is that? The finca Can you plant dude? The gun This is not good The gun Heard The gun Oh mio dio ragazzi Un trauma Ragazzi difficilissima Difficilissima ragazzi Difficilissima Oh mio dio Sono distrutto mentalmente chat Distrutto mentalmente Distrutto mentalmente Assurdo Oh mio dio